Abbiamo una certa età, non diciamo che siamo, però è tanto che siamo al pezzo. Io sono il titolare della trattoria da Fagiolino e 45 anni che sono qui dentro in prima persona. Raggiunto un certo limite d'età, la stanchezza diventa e due esercizi commerciali non ce la facciamo più a tirarli avanti. Con queste parole Luigi Innocenti, titolare della nota trattoria da Fagiolino a Codigliano, hanno spiegato la decisione di chiudere l'edicola tabaccheria del paese da tre anni, gestita dalla moglie Paola. Una decisione dunque non dettata dalla crisi, come avvenuto per altre realtà commerciali della montagna, ma da altri fattori. Abbiamo dovuto fare una scelta, non potevo trascurare la trattoria da Fagiolino sicuramente. Io ho bisogno di mia moglie nell'attività e di conseguenza dobbiamo cessare quella di giornali e tabacchi. L'ultimo giorno in cui si avranno i giornali in paese sarà il 31 di marzo, poi il bandone non si alzerà più, a meno che qualcuno non sia disposto a rilevare l'attività. Per ora non si è fatto avanti nessuno, è due o tre anni che si sta cercando di riuscire a darla a qualcuno, anche a prezzi modici onestamente, perché se uno viene a chiedere si rende conto. Purtroppo, come ripeto... Una notizia che è stata accolta con dispiacere dalla gente del paese, che vede sparire un altro punto di riferimento. Una cosa pesante per quanto riguarda i cittadini. Quelli che normalmente vivono a Cotigliano avevano un punto d'appoggio su questa attività qui, su questa edicola. Come si suol dire in gergo, l'appalto era essenziale per un paese come Cotigliano. La chiusura dell'edicola a Cotigliano, per il discorso del turismo e anche per il discorso delle persone anziane, che non hanno la possibilità di muoversi, sarà una scelta deleteria per il paese. Mi dispiace, speriamo che qualcuno prenda l'iniziativa di portare avanti questa attività. Penso che è una cosa molto negativa, perché è un servizio che viene comunque a mancare al paese. Speriamo di no, speriamo che ci sia qualche volanteroso che abbia voglia di intraprendere. Sarebbe una brutta cosa, insomma, per tutto, per il turismo, per le persone qui del posto, ecco, sicuramente. E' un guaio, si spera che qualcuno la rilevi, perché già siamo pochi, poi se stanno chiudendo negozi, Cotigliano muore, la montagna muore.